Trovo pericoloso e fuorviante l'allarmismo creato da alcune testate giornalistiche rispetto alle vicende del Colombatto. Si è parlato di crollo quando un crollo non c'è, ma è semplicemente una caduta di un pannello leggero per cui si sta ancora cercando le cause della caduta, ma non sono sicuramente legate alla struttura del controsoffitto, in quanto è stato verificato sia dai nostri tecnici che dai vigili del fuoco. In base a queste prime notizie possiamo dire che la struttura è a posto, non c'è nessun pericolo e quindi bisogna stare molto attenti a verificare le notizie che arrivano prima di gridare agli eventuali crolli o eventuali pericoli per gli studenti. La città metropolitana sta investendo moltissimi soldi pubblici per la sicurezza delle scuole, per la ristituzione totale degli edifici scolastici, anche con fondi di terzi. Quindi mi sembra indecoroso da parte delle testate giornalistiche cercare la notizia a tutti i costi senza una prima verifica che noi siamo felicissimi di dare in tempi brevissimi.